Novità, Antropola, un'altra novità c'è Paolo Egoni, tutti dicevano che non c'era. Chi no? Tutti dicevano che non c'era Paolo Egoni, invece c'è due novità. In realtà la novità è una, è una novità che è arrivata nei ultimi giorni, è una novità importante per il pubblico, per il pubblico, per il pubblico, per il pubblico, e quindi aggiungerà valore alla nostra natura. E' un'altra novità, c'è un'altra novità, non c'è mai, non c'è mai, non c'è mai. Sì, con lì abbiamo parlato e lì ha dato un'altra disponibilità, però è il momento in cui vuole avere un po' di tempo per dire il momento, e quindi abbiamo deciso di aspettare. E poi mi confronterò ancora meglio con lei quando sarà venuto tutto, e ora posso percorrere il tempo, perché abbiamo bisogno di tempo per parlare, però per questa UNL non è stata presente. Senti, è una stagione lunghissima, questa è la lista delle 30, come lavorerai quest'estate, con che tipo di turnover farai? Allora, la stagione è lunghissima e ci sarà poco tempo per allenarsi, quindi l'idea è quella di sfruttare come l'anno scorso la UNL per rimettere un po' le cose, ci sono un po' di situazioni che dobbiamo esistere, altre situazioni che dobbiamo ancora scoprire, quindi le vediamo quando poi arriveranno in paese, in paese, quindi come l'anno scorso la UNL serve per rimetterci in vuole in un inseguimento di condizione fisica, e vedremo poi come si stiede con noi, perché rivedono alcune finiscono le ragazze, alcune finiscono l'anno e 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 l'anno. Campionista d'Europa in carica, Perfè dice che non è un dovere arrivare in fondo e rivincere, come affronterai questa manifestazione e qual è il peso? Ma non avendo forse conquistato quello che volevamo dal percorso, arrivando magari al finale, al mondiale, è più quello che vogliamo ottenere, che quello che abbiamo ottenuto, che ci spinge, e vogliamo anche poterci spiacere di stare lì, tra quelle che si giocano doveva di portare. E' un'estate che ha tante opportunità e vogliamo giocciarci tutti. Questa volta c'eravamo confrontati dal mondiale e abbiamo riparlato degli aspetti legati all'allenamento, perché sicuramente vogliamo aumentare il nostro rendimento e quindi è legato solo a quello che dobbiamo fare in palestra. Hai detto che è la novità. Ci dici perché lei è convocata, che giocatrice è? Che gruppo deve essere la novità? Dipende un po' da lei. Da quando potrà giocare, chiaramente? Sì, perché in comitato che le atlete hanno un potenziale, poi lo devono esprimere. Lei sicuramente ha un potenziale che sta a dimostrare nel gamba italiano, ha tanto entusiasmo e voglia di tutte e tre maglie. E quindi è sicuramente un punto di vista di portare poi quello che sarà nel rinuncato. Pietrini, le ultime lebità di mercato possono essere a qualche inculenza con la sua ex? Non è nessun limite la scelta di giocare in un campionato per ogni anno che è stato precedentemente per altre lezze che sono esperienze che le ragazze sono di fare ma non per questo la nazionale non guarda oltre il nostro giuntino.